Siete pronti per vedere la conclusione di questo terzo capitolo di Injustice? Allora guardatelo con attenzione. E fidatevi di Gabriosta, è vostro amico. Sei debole, Ares, non vincerai mai. Ma guardate quei due stesi a terra, Shazam e Flash, della dittatura. Ares sta parlando con Aquaman e gli dice del falso Superman. Forza Ares! Ora vediamo che succede. Che fanno i nostri veri amici. Ares ha fatto teletrasportare Aquaman. Guardate, c'è Batman della insurrezione. Certo, viviamo in un mondo parallelo e siamo in un mondo tutto diverso. La nanotecnologia criptoniana, è vero. Forza, sedetevi tutti quanti. Mettetevi a sedere. Ora se siedono tutti. C'è anche l'ex Luthor. Superman non sospetta che il suo migliore amico finanzi l'insurrezione. È vero. Il coinvolgimento di Luthor è un segreto. Che critica Superman sparisce. La bomba nucleare non è esplosa. C'è un'arma per sconfiggere Superman. Batman ha un'arma per sconfiggere Superman. Un'arma la cristo niente. L'arma nella Batcaverna. Guardate, quello è Doomsday della dittatura. E poi quello è Superman della dittatura. Ma non solo, anche Wonder Woman. La dittatura è una nostra grande minaccia. Dobbiamo distruggerla. Questi sono tutti i falsi paralleli. Avete visto che fanno Superman e Wonder Woman? Ecco, quella è lanterna gialla. Quello avevamo sconfitto noi nel secondo capitolo insieme a Lanterna Verde. Però il giallo non mi piace. Preferisco il verde. Eh, sono cattivi della dittatura. Sono tutti malvagi. Capitolo quattro. Joker. Siamo pronti per fare il quarto capitolo con il clan. Joker ha guidato questa macchina. Ora Joker deve scendere dall'auto. Ora che la parcheggia. Quello è l'auto della polizia militare. Eccoci. Si comincia lo scontro fra Batman e Joker. Ma questa volta Joker lo vincerà il nostro Cavaliere Oscuro. Facciamogli riavere la sua rivincita per riuscire a conquistare la sua vendetta. La battaglia che a noi ci piace è un casino. Che la guardano milioni di visualizzatori per anni. Vi aspetto nella prossima video recensione come eliminare Batman e come riavere la rivincita per Joker. Ok, arrivederci. Anche se questa video recensione è durata tanto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate e altri video vi aspettano.